L'andata è passata, è passata, adesso c'è una partita importante per noi, per i tifosi, per la società, per tutti ma c'è anche da parte nostra la consapevolezza che al di là della partita importante ci siamo preparati, siamo pronti e quindi siamo desiderosi di iniziare. No, io ripeto in questo momento alcuni risultati negativi hanno comunque anche un pochettino sporcato e inquinato alcune prestazioni ma chi è andato in campo ha fatto anche bene ma è chiaro che Paolo ci conosce, lo conosciamo, ha interpretato bene quella posizione lui può dare un contributo importante come gli altri. Andrea sta bene e quindi è sicuro della partita, adesso valuterò se parte subito, devo ancora fare qualche riflessione ma anche con il ragazzo perché è la prima settimana con la squadra però il giocatore sta bene e poi ha anche lo spessore per apporciare bene a questa partita. Credo che i ragazzi stanno bene, giocatori è mancato qualcosina ma più nella compattezza, qualche abbiamo gestito male, qualche situazione dove la squadra sia un po' allungata cosa che non è proprio la nostra caratteristica e quindi è chiaro che i mediani come tutti se hanno un pochettino di più protezione hanno una maggior tenuta, poi possono anche mettere più qualità se devono coprire più metri di campo però io credo che questo non deva succedere quindi Casarini, Nicola e anche Uzzegoli sta benissimo. No ma le svolte, i punti quando sono così ravvicinati contano come quando si affrontano le tre gare in 15 giorni o in una settimana quindi sono comunque punti pesanti o li prendi o li prendono altri ma questo lo sappiamo adesso testa a questa prima gara perché non siamo qui a fare conti o valutazioni per il dopo c'è una partita a cui ci teniamo noi, la squadra, la città e tutti e quindi pensiamo a questa adesso. Ci sono anche, ad esempio, la partita con la Ternano l'abbiamo fatta noi cioè la Ternano nel primo tempo ha fatto un tiro non è che noi non facciamo la partita a volte siamo costretti ad alzare la palla proprio per la densità difensiva che c'è ma non è una cosa a cui dobbiamo proporre sempre ci sono delle situazioni ma tendenzialmente, ripeto in questo momento la cosa che è importante è anche all'interno di quello che ho detto prima della squadra corta, della compattezza di squadra si trovano anche gli altri valori si trova il palleggio, si trova l'intensità, si trova le pressioni è normale, sono le distanze che poi creano i presupposti per fare in modo che ci siano queste altre componenti Mi aspetto una squadra, una bella partita, una squadra viva una squadra che sta bene ma, ripeto, rispetto per l'avversario ma mi aspetto dalla squadra, da noi quello che è importante è quello che faremo noi credo che questo poi fa la differenza grazie a tutti